Sold Out, posti a sedere tutti esauriti, con spettatori all'impiedi per la prima cinematografica del film Il Maestro più Margherita, proiettato presso il Cineteatro La Provvidenza di Vallo della Lucania. Circa 700 persone hanno applaudito più volte durante la proiezione del film, girato nel Cilento, a Cannalonga, in provincia di Salerno, segno che l'opera, prodotta dalla film studio di Agropoli, scritta da Giovanni Laurito per la regia di Gianni Petrizzo, è arrivata dritta al cuore. Emozioni a non finire, commozione, comicità intelligente, raffinatezza stilistica nel racconto, questo è il contenuto di un lungometraggio che ha entusiasmato dall'inizio alla fine. Per l'occasione erano presenti l'idiatore del progetto Luigi Rossi, parroco del paese cilentano, dove è stato interamente girato il film, Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Ciro Miniero, lo sceneggiatore Giovanni Laurito e il regista Gianni Petrizzo, il montatore del film Andre Giaccio, gli attori protagonisti Antonio Vita e Antonia Tomeo, Daniele Sottolano, Bartolo De Vita, Antoni Nonese e Francesco Maio e diversi componenti dello staff tecnico che hanno contribuito alla realizzazione del lungometraggio. Il maestro più Margherita, che ha visto anche la partecipazione straordinaria di Vittorio Sgarbi, è un film che tra momenti di ironia e leggerezza vuol mettere in risalto l'importanza dell'appartenenza territoriale, volutamente girato sullo stile della commedia degli anni Sessanta in bianco e nero, una favola antica che evoca il cilento arcaico e rurale, le sue tradizioni, i poveri e i semplici, l'inganno, l'amore, la trasgressione e la delicatezza dei primi baci, i desideri e la poesia, un incanto, una amalia in bianco e nero che fa riflettere, ridere, sperare. Il film uscirà il prossimo 9 gennaio nelle sale, partendo dal Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli e proseguendo poi in tutte le sale del cilento, del ballo di Diano, nel Salernitano, nel Napoletano e nella Villinese. In realtà, ragazzi, tutti i sogni possono diventare realtà. Basta avere il coraggio di perseguirli. Grazie.